Musica Buon dia a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare Fantastica. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama Fantastico, solo che è una maglia quindi ho dato il nome di Fantastica. Ed è un filato bellissimo perché ha sia la Mechile Micro Payette, guardate come luccicano colpite dalla luce. Il colore che ho scelto io è il 74 che è questo rosa molto particolare e io lo adoro, mi piace tantissimo proprio perché è un rosa che non si vede spesso, a differenza dei classici rosa. Però non vi preoccupate perché sul sito ci sono veramente tantissimi altri colori, uno più bello e luminoso dell'altro. Vediamo qui che abbiamo il viola oppure il beige ma guardate soprattutto il nero quanto luccica. C'è anche il bianco, il blu quindi vi potete sbizzarire a fare questa maglia col colore che più vi piace. Per quanto riguarda i quantitativi, allora io ho lavorato sempre esclusivamente con l'uncinetto del 4,5, ho usato quello del 5 solo per fare le catenelle iniziali in modo tale che non stringesse e poi sono andata a lavorare sempre col 4,5 e ho utilizzato 7 gomitoli, ossia 350 grammi. Ora per una taglia M vi occorrono 400 grammi quindi 8 gomitoli, questo perché in realtà io dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco, ho dovuto fare questo pezzo qui dell'ultima manica. Quindi se siete una taglia M va benissimo 8 gomitoli, questo però se la volete come la mia, se la volete un po' più morbida addosso quindi meno aderente, allora in quel caso andate a prendere 9 gomitoli. Taglia L vi occorrono 450 grammi, 500 grammi se la volete comunque più larga rispetto alla mia, taglia XL vi consiglio 550 grammi. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, sono due giri che si ripetono per fare il corpo della maglia e abbiamo questo motivo molto particolare che sembra un giro di ventagli, un giro di maglie alte, ma secondo il giro in realtà riserve una piccola sorpresa. Mentre per quanto riguarda la parte sopra e le maniche sono andata a fare dei semplici giri di ventaglio perché volevo appunto la parte più sopra più furata rispetto a quella di sotto, in modo da poter utilizzare questo maglioncino anche nei locali dove fa più caldo perché mettono l'aria condizionata, l'aria calda a massimo in alcuni ristoranti e questo filato è comunque bello caldo. E al polso, come potete vedere, ho ripreso lo stesso punto del corpo della maglia. Quindi, semplicissima da realizzare. Detto ciò, spero che desiderate realizzarla, se è così come sempre, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, Uncentando con Elsa, o sul gruppo di Facebook, La Libertà di Uncentare e Sfirozzare, oppure potete attaccarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il nuovissimo filato dell'Adrian Bull Linea Fantastico. Allora, io guardate che meraviglia, com'è lucente. Questo perché ha sia la me che le micro paillette, che sono veramente piccole, piccole, piccole e non pungono per niente. Il colore che ho scelto io di utilizzare è questo 74, che dalla telecamera sembra molto più scuro, ma è molto più tuerno come colore. Ma come potete vedere qui abbiamo anche altri colori che trovate sempre sul mio sito. Allora, noi lavoreremo con l'uncinetto del 4,5, qui vi farò vedere un piccolo campione, lavoreremo in tondo, partendo da sotto e andando a salire. Mi raccomando, però le catenelle iniziali io vi consiglio di farle con l'uncinetto del numero 5, in modo che vi sia più facile entrare con l'uncinetto all'interno delle catenelle. Nella mia lavorazione vera e propria io andrò a montare 114 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3. Ora, siccome 3 sono delle poche catenelle, per quanto riguarda una taglia M, una taglia L, ma anche una taglia S che magari ai fianchi è più larga di me, andate come sempre a misurarvi la vostra circonferenza fianchi o la circonferenza seno, a seconda di cosa avete più grande, e andate a montare tante catenelle ad arrivare a quella circonferenza, mantenendo un multiplo di 3. Ora, per una taglia M io vi consiglio di mettere almeno 5 motivi in più rispetto a me, se non anche 7. Per una taglia L potete mettere anche 10 motivi in più rispetto a me. L'importante appunto è che raggiungiate la circonferenza che vi serve. Per quanto riguarda aumenti e diminuzioni, con il punto che andremo a fare non si riescono a fare, quindi le uniche diminuzioni e aumenti che potete fare è quello cambiando l'uncinetto. Quindi noi lavoriamo con 4,5, se avete bisogno di allargare andate a fare un uncinetto, ad utilizzare un uncinetto del numero 5, così la lavorazione si ammorbidisce e si allarga accedendo almeno 3 cm, oppure se dovete stringere andate a lavorare con l'uncinetto del numero 4. Mi raccomando, se avete una mano stretta iniziate a partire con l'uncinetto del numero 5, e poi potete sempre cambiare il vostro gioco degli uncineti per stringere o meno il lavoro. Ora, il motivo che andremo a fare si ottiene su due giri, uno semplicissimo e l'altro una piccola novità, che in realtà alcuni conoscono, ma sarà leggermente diversa da quello che siete abituati a fare. Quindi, il primo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi ho fatto un ventaglio, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo ad affare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E devo fare questo per tutto il giro, quindi si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si va a fare la nostra maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Di nuovo, salto 2 catenelle, entro nella terza e andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E devo fare questo per tutto il giro. Vi farò vedere appunto come terminare il giro e come iniziare a fare poi il secondo giro. Quindi sto terminando il primo giro, entro nella terza catenella che quello aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2 e le chiude insieme e si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto del ventaglio successivo e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2 e le chiude insieme. E ricominciamo. Archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte non chiuse. 1, 2 e le chiude insieme. Devo fare questo per tutto il giro. Vado nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, rientro il filo, 2 maglie alte non chiuse. 1, 2 e chiude insieme. E devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Poi vi farò vedere come chiude e come riniziare il primo giro siccome abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. E ricominciamo dal primo giro. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo, andiamo a fare una maglia alta. Prendiamo il filo, quindi abbiamo fatto il nostro ventaglio, andiamo direttamente dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a rifare il nostro ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta. E andiamo così per tutto il nostro primo giro. Quindi andiamo dove abbiamo la maglia bassa, maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta. Dobbiamo fare tutti questi due giri fino ad arrivare ad altezza degli scalfi. Una volta arrivata ad altezza degli scalfi, cambieremo punto perché sopra voglio fare un punto un po' più forato rispetto al sotto per dare più movimento alla maglia. Quindi adesso continuerò a lavorare nella mia lavorazione vera e propria. Questo vi ricordo che è un campione e naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi due giri. Allora, ho terminato la parte sotto della mia maglia. Ho ripetuto due giri per 20 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Mi raccomando per le altre taglie o anche per la mia taglia, il numero dei giri da fare fino ad arrivare a mettere in marca punti dipende sempre da quanto volete lunga la vostra maglia. Una volta fatto ciò sono andata a contare i miei ventagli e ho un totale di 38, quindi ne ho messi 19 avanti e 19 dietro. Mi raccomando, se avete un ventaglio in più, quindi rispetto a me, avete montato 5 motivi in più e quindi vi trovate un numero dispari, nessun problema. Quello dispari va sempre messo sul davanti. Altra cosa che adesso vi dico è che andremo a cambiare il punto, quindi da sopra al seno fino alle spalle, dove abbiamo appunto il nostro scappo per poter fare i scappi, andremo a cambiare il punto. E faremo un punto un po' più forato, questo per dare un po' più di movimento alla maglia, mentre poi quando andremo a realizzare le maniche, penso che andrò a fare lo stesso motivo che ho fatto per il corpo della maglia. Un po' come una vecchia maglia che facevamo anni fa, che era la My Lady. Quindi, come dicevo, io cambio motivo, ma in realtà quello che vado a fare sono semplici giri di ventaglio. Quindi io entro nel mio archetto del ventaglio, vado a fare una maglia bassa e due catenelle che sono prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia. E poi vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Archetto successivo, di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio. E continuo così per tutto il giro. E poi si ripete da capo, quindi di nuovo andiamo a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio. Questo perché, come vi dicevo, voglio la maglia un po' più forata sopra rispetto al punto che abbiamo fatto per la parte di sotto. Per le maniche andrò ancora a decidere se fare lo stesso punto della parte sopra, quindi tutto ventaglio, o se invece andare a fare il punto della maglia. Deciderò una volta che inizierò a fare le maniche. Quindi adesso procedo sempre con questo giro, ventaglio all'interno di ogni ventaglio, e naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare per arrivare alle mie spalle. Quindi niente di più complicato, ventaglio sopra ventaglio, e quando giriamo la versione, di nuovo ventaglio sopraventaglio. Ho terminato la parte di sopra della maglia, ho ripetuto il giro undici volte, però per la parte avanti, nell'ultimo giro, sono andata a fare soltanto 5 ventagli a sinistra e 5 a destra. Questo per avere uno scollo un po' più largo, quindi non troppo tirato, ma un po' tondino, mettiamola così. Io ho fatto un giro, se voi volete uno scollo ancora più largo, mi raccomando, fate più di un giro. Quindi direi fate almeno due giri per averlo un po' più largo, e naturalmente le altre taglie rispetto a me. Se io ho fatto undici giri, taglia M, dovete andare a fare almeno 13-14 giri, tenente presente, che io con undici giri ho uno scalfo di 14 centimetri e mezzo. Dietro invece sono andata a fare tutti gli undici giri, lavorando sempre da destra a sinistra, senza fare la micro spallina. Ma volendo, se non volete allargare troppo avanti, ma volete allargarlo anche un po' dietro, fate anche dietro l'ultimo giro soltanto sui 5 ventagli. Naturalmente, se voi volete farlo anche un po' più, qualche ventaglio in più, dipende sempre da quanto volete appunto il vostro scollo largo. Detto ciò, quindi adesso possiamo andare a fare le nostre maniche. Allora, io ho già fatto una manica, adesso vi spiegherò bene anche come andarla a fare, e vi dico che alla fine ho deciso di lavorare lo stesso punto della parte superiore della maglia, ma come bordo della manica ho rifatto lo stesso del corpo della maglia. Quindi vi dico che ho fatto un totale di 34 giri con il ventaglio, quindi 34 giri ventaglio, e poi sono andata a ripetere due volte il motivo, quello con il giro di ventaglie e il giro di maglia bassa e due maglie alte chiuse insieme. Quindi questa è la manica. Adesso appunto vi faccio vedere come andare a fare la lavorazione intorno allo scalfo partendo dall'altra manica. Ho deciso di farla così in modo tale che sia un po' più leggera, da poterla indossare anche nei locali quando c'è molta più... Ops, ecco, non tutto perché non si vedeva più bene la telecamera. Dicevo, quando comunque si sta in quei locali dove c'è molta aria condizionata e quindi fa più caldo, quindi sotto possiamo mettere un top leggero e stare bene perché comunque questo è un filato bello caldo. Allora, io mi aggancio sotto, qui dove ho messo il marca punti, e vado a fare le mie 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta. E vado a lavorare, vado dove ho la maglia verticale e vado orizzontale, vado a fare un altro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Salto una maglia, vado qui nel forellino e vado di nuovo a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. A questo punto salto la maglia orizzontale e vado in quella successiva e di nuovo a fare la mia ventaglio. E procedo così, quindi, per tutto il giro. Adesso salto la maglia alta, orizzontale, entro nel forellino e vado a fare la mia maglia, nel mio ventaglio. Salto la maglia alta orizzontale, entro nella successiva e vado a fare il mio ventaglio. Continuo così per tutto il giro, alla fine vi dirò quanti giri, quanti ventagli sono andata a fare io. Mi raccomando, se avete bisogno di allargare un po' la lavorazione, passate a lavorare con un incinetto del numero 5. Se dovete allargare di molto la lavorazione, perché magari di spalle avete fatto lo scalfo un po' piccolo, quindi avete bisogno di aumentare un po', potete fare anche una catenella di separazione fra i ventagli. Allora, io sto finendo il primo giro, ho fatto un totale di 16 ventagli. Quindi entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima per terminare. E poi inizio a lavorare di nuovo, quindi vado nell'archetto, vado a fare una maglia bassa e due catenelle, che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. E continuo così quindi per tutto il mio giro. Quindi, come vi ho detto all'inizio, io ho fatto tutti i giri con il ventaglio, e poi sono andata a fare i due giri che abbiamo fatto per il corpo della maglia per fare il nostro polsino, che è molto carino lavorato così. Ho preferito farla, come vi ho detto, più leggera. Quindi poi deciderò se fare anche un bordino allo scollo, ma sapete che non sono una amantissima dei bordini sullo scollo, quindi magari visto che è già uno scollo comunque stretto, non andrò a fare un bordino. Però vi dirò se naturalmente avrò fatto qualcosa altro, altrimenti anche questa creazione, una volta finita la manica, sarà terminata. Grazie a tutti.